Io voglio divertirmi insieme a tutti gli altri, è una cosa che comunque non è mai successa qui e voglio divertirmi insieme agli altri, voglio stare in compagnia e voglio passare una bella serata. Divertimento sì, ma senza alcol, questo lo spirito della festa organizzata sabato prossimo alla Casa dell'Energia dall'Associazione Futuro Aghetino. Il format del social party sarà molto semplice, solo under 16, un orario adatto alla loro età, dalle 18 alle 23, niente alcolici, con un messaggio chiaro, il divertimento non passa dall'uso di alcol. Con l'aiuto della professoressa Gori, progettista della scuola 4 novembre, il preside dell'ITIS, Galileo Galilei, Alessandro Artini, sono stati coinvolti gli studenti di terza media e di prima superiore perché possano sensibilizzare così anche altri ragazzi. All'entrata all'interno della Casa dell'Energia ci sarà il personale addetto alla sicurezza, la musica sarà mixata da due ragazzi di Futuro Aghetino, il DJ Lorenzo Franchi con il vocalist Lorenzo Singali. Le discoteche sono posti per ragazzi molto più grandi e molte volte noi siamo comunque messi fuori dato che non ci sono posti dove poterci divertire anche noi, o sono per i troppo piccoli o per i troppo grandi. Comanderemo noi, non ci sarà commissione con ragazzi più grandi, non ci saranno alcolici che è molto importante, soprattutto per noi under 16. La novità ci saranno anche i Flash Kids che sono questo gruppo di musica breakdance che sono stati ora appunto a Ballando sotto le stelle, quindi si sono classificati, quindi speriamo che sia una bella serata veramente.